Computi una voce e la associ alla tipologia di lavoro e dalle categorie. Procedi allo stesso modo per computare le altre voci. Visualizzi i lavori a corpo e di corpi d'opera, con gli importi e le aliquote percentuali. Modifichi la tipologia di lavoro e le categorie, alle voci già computate. Puoi assegnare o modificare la tipologia di lavoro e le categorie, ad un blocco di voci già computate. Modifichi la tipologia di lavoro e le categorie, alle voci già computate. Grazie.